Al termine della full immersion di due giorni nella realtà lucchese, il presidente della regione Enrico Rossi, insieme al sindaco e al consigliere regionale Stefano Baccelli, ha voluto stilare un resoconto di quanto è emerso dal lavoro effettuato. Un ciclo di visite, quello programmato dalla regione, pensato per colmare in qualche modo il vuoto venutosi a creare con la cancellazione delle province e con il passaggio di molte competenze proprio al governo regionale. Dopo aver fatto venerdì il punto sull'andamento delle questioni infrastrutturali, il raddoppio ferroviario previsto entro 2019, il progetto degli assi viari finanziato e adesso all'esame del Cipe, il nuovo ponte sul Cerchio e i lavori all'ex manifattura Tabacchi, sabato mattino il presidente ha effettuato una veloce visita all'ospedale San Luca per verificarne l'andamento a due anni dall'entrata in funzione. Insomma ho visto che l'ospedale funziona, mi è parso di capire che anche gli operatori sono contenti alla fine, la fase di rodaggio di due anni ormai si sta superando e mi sembra che c'è una voglia di fare, non ci si nasconde anche qualche problema perché perfetti non siamo, ma insomma senz'altro prima era molto 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 peggio. Successivamente è stata la volta dell'incontro con i rappresentanti industriali del distretto della Carta, vero e proprio punto di forza dell'economia provinciale e regionale, da cui però sono emerse ancora questioni insolute che andranno risolte per diridare slancio alla produzione e all'export. Le questioni che emergevano, come ripeto, sono tre, bisogna riaggiornare il vecchio accordo di programma relativo alla vicenda della depurazione, lo stiamo facendo, abbiamo preso impegno a farlo entro l'anno. C'è una questione sullo smaltimento del par perché adesso va veramente definitivamente risolta e poi dobbiamo programmare anche un migliore utilizzo per quanto riguarda tutta la rete ferroviaria che è stata allestita e che può essere usata per il trasporto del materiale industriale. Il presidente ha incontrato anche la squadra di basket femminile Lemura, congratulandosi per i risultati che stanno ottenendo nella massima serie.